Buongiorno, buongiorno ai lettori del Messaggero, buongiorno ai telespettatori che ci seguono sul canale del Messaggero.it. Io do il benvenuto, sono lieto di dare il benvenuto ai quattro candidati sindaco che verosimilmente si contenderanno la poltrona più alta del Campidoglio tra dieci giorni. Carlo Calenda, Roberto Qualtieri, Enrico Michetti, Virginia Raggi. È un confronto importante, è un confronto molto atteso, è un confronto che i romani seguiranno con grande interesse, probabilmente l'ultimo prima del voto. È un confronto che noi abbiamo voluto fortemente fare qui in questo palazzo in cui da oltre 100 anni raccontiamo la capitale perché un po' romanticamente vogliamo pensare che gli impegni che prenderete tra poco qui saranno realtà nell'arco dei prossimi cinque anni. Non sarà una partita semplice, Roma è una città che è ripiegata su se stessa, Roma è una città che ha bisogno di ripartire e sapere che il prossimo sindaco sarà senz'altro romano perché questa è la caratteristica che vi accomuna è importante. Roma ha bisogno di una guida che senta l'energia, senta la forza che ha questa città e riesca a svilupparne le potenzialità. È una città che deve ripartire, è una città che deve riacquistare uno spirito della romanità che non voglio intendere in senso retorico. Roma, i politici, gli stessi romani da anni sono un po' seduti sui fassi del passato. Roma deve riconquistare la mentalità di chi fece grande Roma ed è un concetto che deve diventare proprio del prossimo sindaco e proprio degli stessi romani. È una città che deve dismettere l'abito consunto che vediamo, è inutile ricordarlo, le buche, il traffico, i rifiuti, il degrado urbano deve riconquistare il palcoscenico nazionale, internazionale e deve ritagliarsi il ruolo che le spetta. Ecco è questo lo scopo con il quale vi abbiamo portato qui, lo scopo con il quale seguiamo la vostra corsa, questo sprint finale, questo incontro che vogliamo chiamare incontro non confronto perché credo che i romani siano più interessati alle vostre idee, alle vostre strategie, alle vostre proposte piuttosto che alla polemica che lascerei ad altre sedi. Vi porremo delle domande con Barbara Iercopo, il capo del servizio politico, con Ernesto Minicucci, il capo della cronaca di Roma e risponderete in senso, in ordine alfabetico in due minuti e poi ci sarà un appello finale. Vi ringrazio, quindi do la parola a Barbara Iercopo. Buongiorno, bentrovati. La prima domanda è molto semplice, insieme molto difficile e impegnativa. Qual è la prima cosa che farà se sarà eletto sindaco? Carlo Calenda. La prima, l'abbiamo già detto tempo fa, un piano di pulizia straordinario che abbiamo quantificato in 38 milioni di euro per, uno, pulire i marciapiedi dalle erbe infestanti, due, levare le scritte sui muri, tre, le caditoie che sono spesso intasate, sono cause di allagamento e quattro, lo spazzamento anche intorno ai cassonetti che come spesso vediamo sono sporchi. Poi ci sono altre cose da fare, per esempio verificare qual è lo stato della revisione generale delle metropolitane. Le metropolitane di Roma hanno avuto immensi problemi, ancora oggi ci sono due fermate chiuse, ricordiamo le scale mobili. In generale però il punto cruciale per me è il decoro urbano. Questa questione dei rifiuti va risolta una volta per tutte, non possiamo essere una città che un grande giornale internazionale definisce la capitale più sporca del mondo, persino più sporca di Bangkok. E la chiave è molto semplice, chiudere per una volta e per tutte è la questione dei rifiuti. Quindi termovalorizzatore, raddoppiare quello di San Vittore, quindi Ama dentro Acea perché Ama da sola non regge più e come in tutte le città del centro nord dove funziona bene, rimettere 5 mila spazzini di quartiere in giro anche utilizzando il bacino reale di cittadinanza come peraltro fanno altre città e 13.500 cestini che in Roma non ci sono. Noi dobbiamo imparare a fare le cose come le vediamo fatte nelle città che funzionano e non trovare sempre una scusa per non farle, magari per, come posso dire, per guadagnarsi il consenso insieme alle municipalizzate. Basta, bisogna ristabilire un principio chiave e il principio chiave è che le municipalizzate lavorano per il cittadino e la politica si assume la responsabilità di fare quello che serve per avere Roma pulita con servizi che siano decentemente funzionanti, cosa che oggi non è e che è peggiorata drammaticamente negli ultimi anni se pensate che addirittura Roma oggi ha difficoltà a seppellire i suoi morti, che è una cosa indegna e che non accade in nessun paese del mondo. Grazie. Gualtieri. Io ordinerò una pulizia straordinaria della città, che non è purtroppo mai stata così sporca e che deve essere coordinata anche con la potatura, con la potatura degli alberi e parallelamente partiremo con la nostra riorganizzazione di Ama, col modello di Ama di Municipio che serve ad avere più capillarità, più cura, qualità della pulizia e più responsabilità nella gestione dei meccanismi di pulitura delle strade e di raccolta dei rifiuti. Poi partiremo con le nostre 23 delibere del nostro piano dei trasporti, che è un piano molto articolato che punta non solo a rilanciare gli investimenti ma anche a modificare la natura e l'organizzazione dei trasporti per arrivare già a giugno ad avere la nostra app unica integrata per tutto il sistema dei trasporti. Farò immediatamente il trasferimento del patrimonio delle case del Comune di Roma, come ha fatto Milano, a Risorse per Roma, una società per poter utilizzare il 110% che attualmente non è utilizzabile per le case di proprietà di Roma Capitale e questa è una dissipazione incredibile di risorse potenziali per rimettere a nuovo le case di decine, di migliaia, di centinaia di migliaia di romani. E poi partiremo anche con l'organizzazione delle strutture speciali per realizzare gli investimenti del PNRR perché se Roma perde queste risorse non ha futuro e quindi poi tornerò magari per spiegare quali sono esattamente queste strutture tecniche. Ci sono anche cose concrete che vanno fatte immediatamente, ci sono 400 case che ATER ha dato a Roma per assegnare, Roma ne ha assegnate solo 35, quindi ce ne sono quasi 400 che aspettano e poi partiremo immediatamente con la nostra idea di realizzare in ogni quartiere un centro giovani, come è stato fatto nel primo municipio, senza soldi pubblici ma dando ai giovani spazi per poter avere spazi di co-working, di studio e di cultura e di incontro. La ringrazio. Michetti. Ma io la prima cosa credo che Roma debba ripartire dalle periferie per cui noi istituiremo un assessore alle periferie, una persona che per H24 si occuperà di tutto quello che è il panorama della ricucitura tra l'area urbana centrale, l'area suburbana e le periferie. Tutta la rigenerazione urbana ripartirà dalle periferie e faremo in modo che anche l'assessore alle periferie viva la quotidianità e per cui il luogo fisico in cui verrà istituito l'assessorato sarà in periferia. Poi avvieremo una task force per smaltire il condone edilizio perché sono 36 anni che tanti cittadini romani ancora attendono una risposta. Avvieremo all'interno della medesima task force anche lo smaltimento delle procedure per quanto riguarda le affrancazioni e la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà. Poi dovremmo iniziare a rimettere in piedi la macchina amministrativa perché se non si muove la macchina amministrativa se la macchina amministrativa non rilascia permessi, nulla osta autorizzazioni, licenze e quanto altro per poter rimettere in moto il meccanismo produttivo è chiaro che tutto si ferma. E poi faremo una due diligence ossia faremo una fotografia del piano economico finanziario della città a valle del 31 dicembre di quest'anno in cui si chiuderà la gestione commissariale. Vedremo il debito di Roma, vedremo la situazione economica di Roma e poi faremo delle scelte in base a quello che ci si parerà dinanzi. Per quanto riguarda il degrado è chiaro che il punto nevraggio è anche la sicurezza perché si muove intorno al degrado. Ripuliremo la stazione Termini, la stazione Tiburtina e speriamo di non dover gestire emergenze sanitarie o emergenze ambientali. La ringrazio. Raggi. Noi ci muoveremo su due livelli. Da un certo punto di vista convocherò immediatamente un tavolo operativo con tutte le forze produttive della città per fare il punto su quanto è stato fatto fino adesso sul PNRR, su Giubileo 2025 e su Expo 2030 a fare il punto e pianificare le prossime azioni strategiche per portare a casa questi tre risultati. Per altro verso daremo continuità a quanto fatto fino adesso e avvieremo nuove iniziative. Ad esempio, ve lo dico da subito, nei prossimi giorni entreranno finalmente in azione i nuovi spazzini AMA che abbiamo assunto all'esito di un concorso regolare. Entreranno in funzione nuovi operatori AMA che abbiamo assunto in base a un concorso regolare. Ancora sarà avviato entro la fine dell'anno il servizio di diserbo, quindi pulizia e ripristino dei marciapiedi che abbiamo dovuto togliere ad AMA per una gestione pessima che peraltro sottraeva personale dalla raccolta dei rifiuti per destinarlo al diserbo. Quest'anno abbiamo fatto una gara, è in corso di aggiudicazione, entro l'anno verrà aggiudicata e quindi avremo finalmente i marciapiedi puliti. Ancora, per quanto riguarda la pulizia della città, ad agosto di quest'anno è iniziata una pulizia da parte di AMA delle foglie e lavaggio strada perché sono arrivati nuovi camion acquistati all'esito di una gara regolare con i quali stiamo finalmente ricominciando a pulire la città e questo piano, grazie all'immissione di nuovi camion e nuovo personale, continuerà in maniera sempre più massiccia, via via che entreranno in forza nuove persone e nuovo personale. Quindi tante cose. Ancora le gare per avviare le cinque linee di tram che sono già state finanziate e ancora ulteriori gare per andare a realizzare le funivie anche quelle già realizzate, quindi all'esito di una pianificazione strategica fatta in questi anni, noi abbiamo obiettivi di breve, medio e lungo periodo, alcuni dei quali in parte sono già stati realizzati, in parte inizierà, continueranno a svilupparsi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Allora, partiamo col secondo giro di domande. Abbiamo detto cosa fareste come prima mossa da sindaco di Roma, io invece vi chiedo una delle grandi risorse economiche, non solo, ma anche dell'immagine, diciamo, di Roma, è sempre stato il turismo. Negli ultimi anni, parliamo soprattutto dell'epoca pre-Covid, insomma, poi c'è stata una situazione emergenziale, naturalmente, è cresciuto soprattutto il turismo morti e fuggi, insomma, low cost, cosiddetto. Quello che vi chiedo, quello che vi chiediamo è qual è la vostra idea per riportare invece a Roma un turismo di qualità? Ricominciamo da Carlo Calenda. Sì, grazie. La situazione è quella che lei descrive. Noi abbiamo, diciamo, una spesa che è molto inferiore a quella nazionale, c'è circa 80 euro, è quasi la metà di quella che un turista fa a Parigi. La ragione è molto semplice. Vengono i turisti che devono mettere una X sul fatto di aver visto il Colosseo e il Museo Vaticani, ma non tornano perché la città è sgradevole. Il centro storico, peraltro, si è spopolato, pochi ne parlano, ma di circa il 35% negli ultimi cinque anni. Non c'è una regolamentazione seria, vera, delle case vacanze, dei B&B, quindi si sta B&Bzzando. E questo vuol dire che il turismo di alto livello scappa. Dunque va fatta prima una regolamentazione. Secondo, il lavoro che fanno tutte le città, cioè non solo creare iniziative, eventi, di rafforzare l'offerta museale in modo che la gente possa venire e venga perché dice devo andare a Roma a vedere quella mostra, devo andare a Roma a vedere un nuovo assetto di musei, eccetera. Ma anche e soprattutto fare una targettizzazione del turismo. Quando ero ministro dello sviluppo economico all'epoca lisce aiutammo a costruire il Convention Bureau. Il Convention Bureau è cosa cerca di fare? Cerca di prendere il turismo congressuale, che è un turismo ricco. Però Roma ha ospitato uno grande di cardiochirurgia, mi pare, avendo esiti disastrosi perché la soddisfazione delle persone che ci sono venute è bassissima. Dunque sì, bisogna andare sul turismo sanitario, sul turismo sportivo, sul turismo congressuale e bisogna fare un lavoro su questo, ma attenzione, se il centro storico sta in una condizione di degrado, se ai musei di Roma ci va pochissima gente, se non si fa un revamping, se non si rivitalizza tutta l'offerta del centro che deve diventare gradevole, non si va da nessuna parte. Per questo destineremo e vincoleremo una parte della tassa di soggiorno a sia iniziative di promozione per prendere i turisti, sia invece a iniziative di rafforzamento del decoro urbano nel centro storico in particolare, che è la meta di destinazione immediata dei turisti. Grazie. Gualtieri? Sì, come tutti sappiamo, purtroppo il turismo a Roma è un turismo di bassa qualità, si sta a pochi giorni e si tende a non tornare, alto consumo del territorio e basso valore aggiunto, quindi serve un vero salto di qualità a partire dall'attribuzione della delega per il turismo ai vertici dell'amministrazione, perché quella del turismo deve essere una politica integrata che coinvolge tutti i vari aspetti, anche la mobilità, anche la cultura, eccetera, eccetera. Poi creeremo, come a Milano, una struttura che si chiama DMO, Destination Management Organization insieme ai soggetti privati per pianificare, coordinare e gestire la programmazione, la pubblicizzazione, la gestione di una vera e propria strategia turistica adeguata a una grande capitale che deve puntare a avere sempre degli eventi, a stare sempre sulla stampa internazionale, a diversificare l'offerta e tra l'altro a valorizzare il fatto che Roma è un museo diffuso. Quindi se noi vogliamo che le persone stiano di più, dobbiamo sostenere, valorizzare anche con le risorse PNR la diffusione dei nostri attrattori che sono dappertutto in tutti i quartieri perché abbiamo una città verde, abbiamo una città con un patrimonio storico, archeologico straordinario e diffuso e quindi questa dimensione è fondamentale. Poi sì, c'è un grande problema di abusivismo, di abusivismo ricettivo, di non regolamentazione del settore extraalberbiero e poi c'è un problema, sono d'accordo su questo, di spopolamento del centro storico che porta a un processo di disneyzzazione, io la chiamo così, e chiaramente disneyzzazione, gadget, è legato al turismo di bassa qualità mentre i turisti vogliono anche l'esperienza della vita reale vissuta dei cittadini, dei romani che si incontrano nelle piazze e quindi la qualità del nostro tessuto urbano è stasessa un profondo fattore di attrazione turistica. Il turismo è una parte importante del pilio, da ministro guardavo tutti i giorni lo spread, guarderò tutti i giorni gli arrivi di turisti. Grazie, Michetti. Trent'anni fa Roma era la città più visitata al mondo, poi probabilmente ci siamo cullati del fatto che i turisti cadessero a pioggia nella città, invece la città ha bisogno di pianificazione, di logistica, di organizzazione del turismo. Dobbiamo senz'altro attivare tutte le procedure perché si abbiano delle infrastrutture che garantiscono una mobilità dignitosa e non solo infrastrutture per il digitale che si mettano in rete tutti i circuiti che siano in grado di garantire l'accoglienza e un contrasto fortissimo all'abusivismo. Poi Roma deve rilanciare il suo brand, cioè la romanità, le sue radici, le sue tradizioni, i suoi prodotti, la sua cultura e questa è la ragione per la quale i turisti vengono a visitare Roma e quindi bisogna censire tutto questo, garantire una filiera che significa anche garantire occupazione, lavoro, sviluppo e rilancio della città. E poi Roma può garantire un'offerta che nessun'altra città al mondo può garantire perché il suo paesaggio consente di avere il mare, la collina, i bacini lacustri, la montagna, la campagna romana. Noi possiamo organizzare itinerari archeologici, itinerari religiosi, itinerari paesaggistici dal punto di vista ambientale, sportivi, noi possiamo garantire qualsiasi tipo di itinerario. È chiaro, bisogna valorizzare la convennistica, bisogna valorizzare i grandi eventi, ogni piazza di Roma può ospitare un grande evento. gli eventi congressuali, rivalutare l'ente fiera, va bene l'Expo, le Olimpiadi sono state un'occasione persa, però adesso bisogna concentrare tutta la nostra attenzione su un giubileo che comunque è una vetrina importante per Roma e per la sua veicolazione della sua immagine nel mondo. Grazie. Raggi. Grazie. Allora, io credo questo. Innanzitutto c'è un dato positivo. In questi anni, mettendo a posto i conti e rifacendo partire gli investimenti, come peraltro avete certificato anche voi sul Messaggero nel momento in cui proprio tre giorni fa appariva un articolo di alcuni imprenditori che dicevano finalmente a Roma si torna a investire, è così. Ebbene, stanno arrivando grandi gruppi internazionali che stanno acquistando catene di hotel super lusso. Una, anzi un paio sono già state aperte in questi anni, abbiamo poi altri sedici hotel di super lusso che arriveranno a Roma. Attenzione, questo significa lavoro per le imprese e lavoro per le persone. Quindi questo è un dato molto positivo. Cosa abbiamo fatto? Innanzitutto siamo andati a rivalorizzare quello che noi abbiamo chiamato il quadrilatero del lusso, partendo da Piazza Augusto Imperatore, come sapete abbiamo aperto il mausoleo di Augusto, Via Veneto è in corso di riqualificazione, anche lì stanno aprendo nuovi hotel, Via del Tritone grazie anche al gruppo la Rinascente sta rivedendo e riqualificando completamente il suo ambito così come Piazza di Spagna. Ebbene, quello diventerà per noi un nuovo polo di attrazione del lusso, del super lusso e diventerà un polo archeologico estremamente importante. Allo stesso tempo in questi anni abbiamo per prima cosa attivato e attuato il Convention Bureau che ha lavorato molto sul turismo congressuale, stiamo concludendo la creazione della DMO che sarà proprio l'unità di governance formata da amministrazione e operatori del settore per gestire il turismo a Roma perché bisogna gestirlo. Abbiamo avviato una serie di percorsi specializzati sul turismo quindi il turismo congressuale ha il suo canale, il turismo religioso ha il suo canale, il turismo eco quindi l'ecoturismo che soprattutto dopo il Covid è diventato una tendenza e una richiesta molto importante di Roma e ancora tante altre tipologie di turismi e ancora abbiamo unificato i calendari di tutti i nostri eventi eventi sportivi eventi culturali eventi religiosi e artistici per promuovere l'immagine di Roma nel mondo. Grazie. Allora io torno sul tema al quale avevo fatto riferimento nell'introduzione a questo incontro della grandezza di Roma abbiamo sentito adesso una serie di proposte interessantissime che però riguardano un po' tutto un po' l'universo mondo ecco vorrei sapere da voi un tema un settore un comparto che secondo secondo voi può contribuire ad aumentare il benessere della città ad aumentare il benessere dei romani il tecnopolo l'imprenditoria il settore del commercio il settore delle imprese la cultura lo sport le istituzioni internazionali le grandi manifestazioni artistiche su che cosa vi sentirete di puntare per aumentare il benessere della capitale Carlo Calenda in primo luogo c'è una cosa che va fatta immediatamente vanno chiamate le prime 150 imprese che stanno a Roma per capire se hanno progetto di restare di investire che cosa hanno bisogno di investire e se se ne stanno andando perché la prima cosa è tenere quello che hai senza perderlo cosa che noi abbiamo visto in questi anni in secondo luogo ci sono alcune traiettorie molto chiare di sviluppo una traiettoria è sicuramente quella culturale che ha a che fare sia con il settore chiamiamolo così del cinema e della televisione eccetera io finanziai all'epoca il mercato del cinema di Roma che è molto importante perché non c'è più il mercato una volta eravamo leader però si è il settore museale dove io credo che vada fatta una concentrazione di musei al Campidoglio perché oggi c'è una dispersione tale per cui i musei di Roma tolto i musei vaticani il Pantheon il Colosseo sono visitati da pochissime persone aggiungo che va ristrutturato al sistema dei fori io sono convinto che deve andare allo Stato anche la metà che oggi è del comune creando una grande confusione poi va investito sull'università noi abbiamo grandi poli di eccellenze bisogna uno fare il centro di elaborazione e gestione dei dati medici e sanitari a Roma basta mandare cose a Milano secondo bisogna creare un politecnico con agganciato un istituto tecnico superiore in particolare orientato alla digitalizzazione e la cyber security il settore agricolo a Roma è fortissimo noi siamo il primo comune in Italia probabilmente in Europa per l'agricoltura il comune ha un sacco di terreni che vanno dati via anche con la politica di un euro per far arrivare persone che se ne occupano ma soprattutto va costruito a Castel di Guido un istituto tecnico superiore per l'agricoltura e l'agricoltura digitalizzata intendo quella 4.0 dunque ci sono due strategie che vanno insieme la strategia di sviluppo e la strategia di tenuta degli investitori attuali bisogna fare una lotta al coltello perché non è più possibile che come è successo con le banche o in altre situazioni se ne vada tutto via perché la città è in degrado e quindi la gente scappa grazie Roberto Coltieri di Roma in questi anni non ha fatto una politica economica una politica industriale molte aziende se ne sono andate ma noi abbiamo delle risorse e delle opportunità straordinarie su cui occorre investire con visione e condivisione per questo noi proponiamo un grande patto per lo sviluppo e l'occupazione con le forze produttive e con le forze sociali dentro questo patto noi lavoreremo sulle singole filiere che sono delle eccellenze e delle grandi driver di crescita e di lavoro per la nostra città si è parlato dell'audiovisivo che è fondamentale io ho messo 300 milioni su Cinecittà e abbiamo il tax credit quindi Roma come grande polo e l'audiovisivo ma tutto il comparto delle imprese creative va sostenuto e per questo noi proponiamo il programma Roma Creativa che si interfaccerà con Europa Creativa e con le risorse della regione per sostenere tutte le imprese creative a partire da quelle giovanili con 10 azioni che poi si possono trovare sul programma il progetto Tecnopol è fondamentale noi lo sosterremo dando immediatamente un'area e favorendone la rapida insediamento perché si tratta di rafforzare il rapporto tra università e imprese in alcune delle filiere fondamentali per Roma quella del biomedicale perché questo per Roma è un asset straordinario le scienze della vita e della cura quello della transizione energetica Roma deve essere leader delle imprese per la transizione energetica e quello del digitale su questi tre ambiti noi dobbiamo realizzare anche favorire anche con le politiche regolatorie urbanistiche veri ecosistemi e distretti industriali poi c'è il grande tema dell'aerospazio che è un altro grande settore fondamentale e qui occorre di nuovo una capacità di dialogare a tutti i livelli col governo e in Europa per promuovere e sostenere gli insediamenti e lo sviluppo nel proprio territorio c'è un grande tema della finanza agenzia degli investimenti per attrarre investimenti e seguirli e mercato del private capital per dislocare sul territorio il risparmio previdenziale che noi produciamo copiosamente grazie Enrico Michetti ma Roma è la capitale d'Italia per cui merita rispetto e dignità merita poteri speciali e merita soprattutto risorse adeguate al suo sviluppo c'è bisogno di collaborazioni istituzionali per cui comune regione e governo debbono dialogare e la prima cosa che a mio giudizio c'è da fare è far ripartire le grandi infrastrutture soprattutto quelle per la mobilità per cui noi abbiamo bisogno che i tronconi metropolitani vengano prolungati oltre il raccordo anulare che mettano in rete le periferie abbiamo bisogno che la linea D che oggi è soltanto il frutto di un tratto di penna torni ad essere voglio dire cantierabile abbiamo bisogno di chiudere l'anello ferroviario che ormai è una questione annosa abbiamo bisogno di riqualificare la Roma Lido che è la freccia che va verso il mare verso gli scavi di Ostia Antica abbiamo bisogno di un'infrastruttura per il digitale il digitale è fondamentale in questo momento abbiamo bisogno di non soltanto di una rete fissa ma anche di una rete mobile oggi chi vincerà chi arriverà per primo a fare l'infrastruttura avrà un vantaggio competitivo con tutte le altre capitali europee e soprattutto Roma potrebbe cogliere l'occasione di ridurre quel gap che ha accumulato nel tempo abbiamo bisogno di una grande banca che si occupi di Roma che finanzi tutte o comunque che apra le linee di credito e garantisca al cittadino di Roma all'impresa di Roma di sostenerlo in quelle che sono le iniziative imprenditoriali che conosca il territorio che investa sul territorio che creda nelle iniziative di rilancio della città e cooperi perché queste vengano raggiunte nel massimo della qualità e nel minor tempo possibile Grazie Virginia Raggi Grazie allora la notizia è questa perché poi bisogna essere molto concreti in realtà le imprese non fuggono più da Roma stanno rientrando stanno arrivando imprese straniere e quelle romane stanno rimanendo abbiamo sviluppato in questi anni un piano di rigenerazione urbana molto importante che prevede circa 100 progetti di rigenerazione in parte pubblici in parte privati in parte pubblico privati attualmente in corso su Roma e tutto questo è visibile già in una mostra presente all'interno dei musei capitolini accessibile gratuitamente da piazza del Campidoglio e si vede cosa si sviluppa a Roma abbiamo circa 340.000 metri quadri di sviluppo vi dico solo che City Life di Milano ne sviluppa 180.000 questo per darvi l'idea di come probabilmente alcune informazioni vengano un po' distorte quindi la rigenerazione è un grandissimo piano di ripartenza della città e questo lo stiamo facendo insieme alle imprese insieme alle imprese del settore agricolo abbiamo approvato il piano agri-food il piano agri-food serve proprio per rimettere al centro di una delle politiche di sviluppo il driver dell'agricoltura Roma è il comune agricolo più grande d'Europa abbiamo studiato un piano quadro insieme alle imprese di settore per valorizzare la filiera semplificare attraverso un ufficio unico tutte le imprese di settore valorizzare le imprese femminili e giovanili e soprattutto svilupparci nel senso anche dell'agricoltura di precisione ancora abbiamo lavorato con il piano Roma Smart City e il piano Tech Business per richiamare le imprese del settore ICT Roma ha oggi una casa delle tecnologie emergenti cioè un luogo nel quale si possa sviluppare un incubatore un acceleratore di progetti e abbiamo appena aperto il Roma Green Innovation Hub quindi stiamo lavorando sulla filiera del sostenibile e del digitale Roma diventerà la capitale digitale d'Italia e stiamo ancora lavorando anche con le piccole imprese pensiamo al progetto all'esempio dei tavolini durante la pandemia grazie all'estensione dei tavolini tante piccole imprese sono rimaste aperte e hanno generato lavoro quindi si lavora a vari livelli che sta già accadendo grazie vorrei chiedere a tutti voi di entrare nel concreto sul tema città a misura di donna che vuol dire usciamo un attimo dai luoghi comuni vi faccio un esempio molto concreto io ricordo qualche anno fa poco prima del covid che per la sicurezza ci fu un impegno del comune con i tassisti romani per avere una tariffa speciale per le donne dopo le 10 di sera se non sbaglio io col mio lavoro spesso finisco dal giornale più tardi nessuno me l'ha mai applicata o al meglio detto nessuno mi si è mai offerto di applicarla quindi mi chiedo non solo madri anche più in generale sulle donne cosa propone Carlo Calenda? Roma è una città insicura è una città insicura per le donne perché ha caratteristiche intanto di degrado fortissimo in avanzo solamente a tutti i parchi che sono diventati alloggi abusivi di persone molto spesso leggiamo sulla cronaca fatti molto inquietanti è una città pericolosa perché non è illuminata mancano circa 40.000 lampioni è una città che ha un piano della luce totalmente carente ed è questo un altro punto fondamentale ma non solo questo è una città che crescendo molto meno del resto d'Italia quello che ha nel corso degli anni ha danneggiato soprattutto le categorie più fragili che sono le donne e i giovani e dunque noi abbiamo messo a punto un piano che prevede intanto l'estensione dei centri antiviolenza oggi Roma ne ha pochissimi ne mancano circa 250 in secondo luogo quello che va fatto è la costruzione di una rete di supporto non solo nel caso di violenza ma anche nel caso per l'inserimento del mondo del lavoro l'estensione degli asili nido l'aumento del 20% soprattutto la distribuzione di questi asili nido in modo come posso dire equo sul territorio e così come il programma che abbiamo fatto che è fondamentale nel pomeriggio per aiutare in particolare le donne che spesso se ne fanno carico di avvio alla lettura per i ragazzi per i bambini di età prescolare e scolare utilizzando non solo le biblioteche di Roma che peraltro oggi sono tutte concentrate per il 60% nell'area centrale ma anche le piccole librerie che possono aiutare e fare corsi di lettura e avvio alla lettura insieme a questo abbiamo un programma molto dettagliato che potete vedere sul sito do Calenda Sindaco sia per aumentare il supporto all'assegno di maternità sia per fare formazione nel periodo in cui si fa genitorialità e possibilmente incentivando anche gli uomini a sostituire le donne in quel periodo questo fa parte peraltro del PNR della proposta per il recovery fund PNRR che abbiamo mandato al governo grazie Gualtieri Roma non è una città per donne per questo noi abbiamo scelto di mettere come primo punto il nostro programma la questione di sostenere valutare aiutare l'autonomia l'indipendenza delle donne innanzitutto c'è un grande tema di parità salariale solo di quantità dell'occupazione ma di qualità dell'occupazione quindi noi proporremo di realizzare e attuare la legge regionale sulla parità salariale anche con meccanismi di certificazione e premialità per tutte le imprese che realizzeranno la parità salariale che oggi è scandalosa diciamo non è realizzata poi c'è anche un tema gli incarichi esterni devono essere sempre un uomo e una donna poi c'è un grande tema delle donne professioniste che sono discriminate poi c'è la questione fondamentale dell'organizzazione stessa della città dei tempi di vita e di lavoro il nostro modello la nostra idea della città dei 15 minuti con i servizi di prossimità è innanzitutto un modello di città amica delle donne e questo significa non solo infrastrutture sociali quindi asilinido ma anche assistenza domiciliare e territoriale per liberare le famiglie e spesso purtroppo sono le donne che hanno questo carico dal peso del lavoro di cura ma significa città dei 15 minuti anche cambiamento dell'organizzazione del lavoro quindi un grande piano sui tempi anche attraverso un sostegno intelligente dello smart working con luoghi di smart working comuni di co-working in tutti i quartieri che siano anche luoghi dove c'è cura dove si possono lasciare i figli dove ci sono spazi anche sociali e di sostegno alle persone poi c'è il grande tema della sicurezza serve luce servono centri antiviolenza serve che sono stati non sostenuti purtroppo in questi anni vanno sostenuti i luoghi delle donne abbiamo dovuto noi e la regione aiutare luce siesta e la casa delle donne e poi serve naturalmente un grande tema che riguarda i trasporti la disponibilità e la sicurezza nei trasporti Roma è una città che mal si concilia con la donna purtroppo nonostante sia una città affascinante però mal si concilia perché perché la donna molto spesso è madre è lavoratrice molto spesso è madre separata noi dovremmo fare in modo che gli asili nido sia comunali che convenzionali garantiscano posti a tutti e proliferino soprattutto gli asili nido aziendali nelle società partecipate vigilate controllate altra cosa è l'albo delle tate la tate è una persona una risorsa umana che entra nelle nostre case e cura i nostri figli per cui ci deve essere un monitoraggio attento della qualità e dell'affidabilità di questa persona e questo il comune potrebbe essere voglio dire l'ente che si occupa di vigilare di controllare di monitorare poi abbiamo bisogno anche perché le donne molto spesso hanno dei periodi nel periodo per esempio in cui crescono i bambini quando i bambini sono piccoli per cui debbono magari occuparsi più della famiglia e poi magari vogliono e hanno il diritto di reinserirsi nel mondo del lavoro per cui bisogna realizzare dei percorsi formativi che implementino le conoscenze soprattutto quelle digitali abbiamo bisogno che questo avvenga nel più breve tempo possibile e si realizzino poi anche quelle attenzioni che riguardano ad esempio il parcheggio rosa per quanto riguarda le donne in gravidanza abbiamo bisogno poi di una maggiore tutela quando la donna prende l'autobus se ci fosse un assistente di bordo un bigliettaio moderno abbiamo bisogno poi Roma dicevano correttamente è una città buia una città dove c'è degrado e questo accompagna la violenza abbiamo bisogno di una videosorveglianza abbiamo bisogno di creare i presupposti per una città sicura una città più efficiente una città più pulita Raggi allora innanzitutto io sono la prima sindaca donna della capitale e questo diciamo a duemila anni dalla sostanzialmente la fondazione di Roma a duemila e settecento anni è un dato che cosa c'è bisogno perché Roma diventi una città per le donne prevalentemente di quattro bisogna lavorare su quattro settori il settore emergenziale della violenza contro le donne è sempre crescente il settore della cura della persona la donna è quella che tendenzialmente ancora si prende cura dei figli dei suoceri dei genitori terzo il tema della sicurezza quarto il tema dell'incoraggiamento al lavoro tutto perché la donna deve essere dal punto di vista economico indipendente che cosa abbiamo fatto sul tema della violenza abbiamo aperto un centro antiviolenza per municipio lo dico ai miei colleghi perché questo dato gli è evidentemente sfuggito come abbiamo anche aperto quattro altre case di semi autonomia una casa rifugio e cinque co housing triplicando i posti di assistenza per le donne maltrattate non è sufficiente quindi questo è quello che abbiamo fatto in questo primo mandato raddoppieremo gli sforzi per il secondo mandato due sicurezza allora noi abbiamo portato la luce in città in zone e quartieri che ne erano completamente sprovvisti dobbiamo continuare abbiamo ancora tantissime zone della città da illuminare di più e da illuminare da zero perché non c'era abbiamo installato migliaia di telecamere abbiamo già bandito nuove gare per continuare a installare telecamere per Roma per renderla sempre più sicura in questo primo mandato abbiamo già aperto nuovi nidi e ne abbiamo altri in corso di progettazione per aprire nuovi nidi con il progetto scuole aperte nel pomeriggio abbiamo supportato tutte quelle scuole che decidevano di aprire il pomeriggio per tenere i bimbi a scuola sia per fare attività di dopo scuola sia per fare attività sportive o attività culturali e artistiche e poi infine abbiamo già pubblicato vari bandi per il sostegno alla piccola impresa all'impresa all'imprenditoria femminile dobbiamo rafforzare gli investimenti in questo settore perché le donne devono essere sicure e economicamente indipendenti grazie allora abbiamo parlato finora di temi molto concreti io vi volevo portare un attimo sul terreno della politica perché poi con 22 candidati sindaco anche con molti vostri diciamo colleghi aspiranti di liste cosiddette minori voi in quattro siete comunque tutti e quattro accreditati di percentuali in doppia cifra il ballottaggio è quasi scontato diciamo difficilmente qualcuno passerà al primo turno e allora con chi pensate se andaste voi al ballottaggio di fare accordi per il secondo turno con quale dei vostri sfidanti e visto che tanto posso anche immaginare già la risposta che darete comunque a quale elettorato maggiormente vi potreste rivolgere in caso di ballottaggio ma io non darò dovessi non raggiungere il ballottaggio sono certo di farlo ma non darò nessuna indicazione per una semplice ragione che a differenza dei diciamo dei miei avversari io ho una sola lista ed è una lista civica e la scelta di fare una lista è una lista civica dove il 70% delle persone medici ingegneri architetti insegnanti non erano proprio mai stati iscritti in un partito è perché io credo che uno dei problemi fondamentali di Roma è che quando si mettono insieme 7, 6, 8 liste con tutto il contrario di tutto quando poi diventi sindaco non riesci a governare assolutamente niente ma c'è di più che devi dare contentini a tutti quindi devi mettere uno in una municipalizzata un altro in un'altra eccetera eccetera e si genera un casino totale in più quando fai l'aggiunta ce li devi mettere anche se sono incompetenti per la materia questa è la storia di quello che è accaduto a Roma in questi anni quello che è accaduto a Roma in questi anni è che alla fine i veti della classe dirigente politica di destra e sinistra lasciamo perdere l'ultima gestione che per me è non classificabile quello che ha fatto è semplicemente non riuscire a governare perché ognuno di questi si è appoggiato a un sindacato di qualche azienda municipalizzata e quindi ha bloccato ogni cosa dunque la linea è molto semplice io mi rivolgo ai cittadini romani che siano di centro che siano di destra che siano di sinistra che condividono un programma che è il più dettagliato di tutti con numeri tempi di esecuzione soldi eccetera se questo come io credo il lavoro lungo un anno pagherà e dunque si andrà al ballottaggio chiederò il voto al sostegno a tutti i cittadini romani se viceversa ciò non dovesse accadere i cittadini romani saranno liberi certamente non prenderò un voto dato a una lista civica per come posso dire consegnarlo a qualcun altro è un progetto specifico molto chiaro molto trasversale molto civico molto indipendente ecco perché bisogna essere oggi indipendenti per mettere mano al macello di interessi intersecati che Roma ha e su cui nessuno è riuscito fino ad oggi a fare nulla Roberto Gualtieri sì io l'ho già detto lo ripeto qui noi non faremo accordi al ballottaggio sono convinto che mi ritroverò con Enrico Michetti e chiederò agli elettori di Carlo Calenda e di Virginia Raggi di sostenere il nostro programma e la nostra proposta di governo che è la più forte la più credibile e la più autorevole abbiamo il programma più dettagliato invito tutti a leggerlo e soprattutto anche i 15 programmi di municipio che sono estremamente dettagliati quartiere per quartiere abbiamo una coalizione larga che è unito il centrosinistra ma coesa intorno a questo programma con candidature di grandissima qualità e con una componente civica molto importante che noi porteremo dentro il Campidoglio dentro il Consiglio Comunale e nella squadra per rafforzare la qualità dell'amministrazione io eserciterò il mio mandato di sindaco con la massima autonomia e determinazione scegliendo i migliori avvalendomi dei poteri che la legge dà al sindaco di scegliere personalmente gli assessori e metteremo una squadra di grandissimo livello perché Roma ha bisogno di qualità non farò mai un ballottaggio di attacco personale perché io rispetto la persona Enrico Michetti però al tempo stesso sottolineeremo che le forze che sostengono Enrico Michetti sono le forze che oggi sono contro il governo Draghi contro l'Europa contro il Green Pass e che Roma non può tornare indietro e non può essere governata da una classe dirigente inadeguata a una grande capitale europea siamo convinti che con questo modo fermo sereno aperto inclusivo ma determinato convinceremo la maggioranza delle romane e dei romani che è tempo di cambiare e che bisogna puntare su un governo della città forte autorevole ma anche umile è capace di ritornare tra le persone e di ascoltare Enrico Michetti prego ma io l'unico accordo che farò lo farò con i cittadini di Roma credo che poi avete visto la campagna elettorale per quanto mi riguarda è all'insegna della massima collaborazione non ho pregiudizi nei confronti di nessuno e l'unico interesse è quello di riuscire a fare qualcosa per questa città il voto è chiaro che si chiede a tutti io sono di estrazione civica e la cosa che mi interessa di più probabilmente è quella che i nostri cittadini tornino a votare in maniera massiccia non ho null'altro da aggiungere Regina Raggi io l'accordo l'ho già fatto con i cittadini l'ho fatto nel 2016 sulla base del programma e continuerò a farlo con i cittadini sulla base del programma ho una coalizione civica che si contrappone alle coalizioni di destra e di sinistra e ad oggi i sondaggi mi danno in ascesa quindi abbiamo già superato Gualtieri adesso stiamo puntando Michetti sono oggettivamente l'unico argine alle destre sono l'unico argine alla criminalità come è stato dimostrato sono stata l'unico sindaco di questa città ad affrontare a muso aperto la criminalità in città andando ad abbattere le villette dei Casamonica andando a sgomberare gli spada dalle case occupate a Ostia adesso prendendo di petto da un paio d'anni tutta la situazione di San Basilio e Torbella Monaca e proprio ieri è uscita la sentenza che ha visto condannare i Casamonica perché associazione di stampo mafioso fino ad oggi questo non era mai stato affrontato da nessuno degli altri sindaci e partiti che ci hanno preceduto allora io dico questo c'è un tema io sono l'unico candidato che è già stato sindaco in città sindaco di una metropoli di 3 milioni di abitanti l'ho condotta fuori dalla pandemia ho avuto modo in questi anni di ricostruire la macchina amministrativa farla camminare adesso dobbiamo farla correre agli elettori con gli elettori si deve fare un patto molto preciso che è quello del programma e si deve perseguire dall'altra parte abbiamo dei candidati che sostanzialmente sono stati messi lì dai partiti che vogliono tornare a spartirsi Roma da una parte abbiamo il partito di Michetti che sostanzialmente ha avuto tutto il periodo l'era di Alemanno purtroppo nota con parentopoli e altre situazioni assolutamente tragiche da cui siamo faticosamente usciti dall'altra parte c'è il partito di sinistra che è la coalizione di sinistra sappiamo bene che sono sempre loro non si sono mai rinnovati a gestire tutto quello che riguarda le nomine le liste di Gualtieri tanto è vero che hanno rimesso dentro gli accoltellatori di Marino io andrò avanti per la mia strada con la mia coalizione civica torniamo un attimo a terra anche nel senso fisico i rifiuti vi chiedo una parola sulla strategia i rifiuti continuiamo a portarli fuori Roma fuori dal Lazio o riusciremo a smaltirli all'interno della provincia è una sommessa preghiera se mi parlate di differenziata siccome la differenziata a Roma è un'impresa titanica se mi parlate di differenziata vi prego di dirmi come intendete farla differenziata perché Roma sono tante città messe insieme quindi forse richiedono richiede anche una strategia diversa quartiere per quartiere Carlo Calenda sì grazie è la domanda chiave io sapete il mio pensiero oggi bisogna raddoppiare il termovalorizzatore di San Vittore lo dico a beneficio del mio amico Gualtieri questa è la dichiarazione del 22 ottobre in cui lo dicevo e a valle di questo non basta questo il termovalorizzatore di San Vittore oggi ha 360.000 tonnellate di capacità in realtà lavora per il 70% per la regione che non vuole termovalorizzatori e quello è della CEA e non funziona o lo raddoppiamo oppure quello lavora per Roma perché sennò è una follia primo secondo quello che bisogna fare come ho detto prima è mettere AMA dentro a CEA come si fa in tutte le municipalizzate del centro nord Italia affinché possa fare investimenti oggi gli mancano mille mezzi e il 40% sono non funzionanti non esistono spazzini non si vedono per strada lo si sa benissimo lo sanno tutti i romani ed è un presidio fondamentale se c'è una cosa fondamentale è rimettere 5.000 spazzini gli accordi sul reddito di cittadinanza sono stati fatti sia con le municipalizzate sia direttamente con il comune così come si può prevedere un'integrazione attraverso un beneficio aggiuntivo per chi lo fa dei per settori di reddito però vanno messi a terra così come non è possibile essere ostaggio del fatto che l'AMA non voglia gestire 13.500 cestini in più che servono per raggiungere il livello di Milano il livello per abitanti di Milano c'è un altro tema che è il rifacimento di tutti i TMB cioè di tutte le strutture di trattamento chiamiamolo intermedio perché? perché oggi in realtà sono poco efficienti circa il 20% diventa materiale combustibile diciamo così il resto va a discari dunque tutto questo tema è un tema che non è stato mai affrontato non è stato aperto un impianto in quest'ultima gestione non è stato migliorato niente abbiamo cumuli di monnezza ovunque nella strada cinghiali che girano e ancora ci vengono a raccontare che AMA è stata rimessa a posto la Corte dei Conti ha detto che il socio è stato su tutte le strutture in house completamente assente è una città lo sbando e sui rifiuti bisogna dire cose termovalorizzatori e spazzini se no ci stiamo a prendere in giro un'altra volta per i prossimi cinque anni Roberto Gualtieri bene finalmente abbiamo scoperto il mistero del termovalorizzatore in Calenda che non è a favore di un nuovo termovalorizzatore a Roma ma del potenziamento di quello San Vittore che è la stessa cosa diciamo no appunto l'ho fatta prima che tu quando avessi tipo le mani di garetti scusate vorrei sospendere il tempo perché mi hanno una linea di stiamo entrando nel confronto che volevamo evitare Roberto Gualtieri beh però su un tema allora posso recuperare un po' di tempo grazie grazie allora quindi come ha detto Carlo Calenda bisogna potenziare come noi anche diciamo il termovalorizzatore di San Vittore invece è sbagliato creare un nuovo termovalorizzatore dentro Roma a Roma perché a Roma invece bisogna realizzare gli impianti moderni di trattamento dei rifiuti a partire dalla bio raffineria poi servono due TMB di nuova generazione poi servono i biodigessori anaerobici e tutta una serie di impianti che sono dettagliati al nostro programma al tempo stesso noi proponiamo eccola qui un riassetto dell'AMA che si chiama l'AMA di municipio lo mostro alle telecamere che è piuttosto organico che rendere più efficiente più capillare e anche responsabilizzare come ho anche detto prima i meccanismi di raccolta di rifiuti nei nostri municipi e nei nostri quartieri tutto questo ci potrà portare facendo sparire gradualmente i cassonetti che non esistono nelle altre grandi città sono un segno dell'arretratezza della raccolta rifiuti a Roma ci potrà portare gradualmente purtroppo perché i disastri di mobilismo di questi anni ci dicono che ci vorranno due anni per arrivare al 50% di differenziata ma poi noi siamo convinti con questa nuova organizzazione di AMA di poter arrivare al 65 barra 70% di differenziata entro i cinque anni e quindi e tra l'altro questo deve portare anche a cambiare il meccanismo di raccolta della Tari 300 milioni di evasione di Tari con un meccanismo di raccolta di tariffa puntuale legata alla qualità della differenziata si può anche arrivare all'obiettivo di ridurre la Tari del 20% in cinque anni perché oggi la nostra Tari è la più alta tra i più alti d'Italia per avere la città più sporca d'Europa quindi impianti riorganizzazione dell'AMA io sono per la partnership tra AMA e ACEA ma avendo fatto l'azionista di riferimento di grandi partecipate so che non è serio e non è un segno di cultura di governo avventurarsi in progetti societari di aziende quotate senza avere tutti i numeri e gli strumenti di cui si dispone solo quando si è al governo grazie Enrico Michetti noi abbiamo un piano rifiuti per cui quando c'è un piano quello deve essere osservato lo avevamo sin dal 2012 un piano rifiuti è rimasto lettera morta è chiaro che il punto di riferimento è il provvedimento il piano rifiuti cosa dice e quello va osservato poi dobbiamo rispettare i criteri che sono dettati dall'Unione Europea che è l'autosufficienza e la prossimità io non ho pregiudizi ideologici nei confronti di alcun impianto in ragione della qualità e della quantità del rifiuto che produce Roma bisogna verificare quelli che sono gli impianti idonei a trattarlo e a smaltirlo quindi su questo si potrà individuare l'impianto più vocato al o comunque più meno impattante possibile più innovativo dal punto di vista tecnologico quello che rispecchia più i tetti di compatibilità con la salute umana però gli impianti ne servono tanti per il trattamento perché poi per il riciclo riutilizzo il recupero abbiamo bisogno di impianti che siano allocati nella prossimità che ci sia meno movimentazione possibile abbiamo bisogno comunque di una discarica di servizio e il raddoppio del termolarizzatore di San Vittorio però non è all'interno del bacino ottimale questo va detto con grande chiarezza gli impianti vanno fatti tutti gli impianti che servono con fermezza e con coraggio su questo non si transisce perché oggi abbiamo i cinghiali e i gabbiani domani ci avremo il colera quindi gli impianti vanno realizzati che ci debba essere massima attenzione su tutto ci debba essere un'attenta pianificazione una grande collaborazione tra comune e regione nell'interesse dei cittadini ma gli impianti vanno realizzati nel più breve tempo possibile con l'immobilismo purtroppo noi andiamo a sbattere Virginia Raggi vi dico quello che stiamo facendo e che faremo AMA ha in corso finalmente un piano industriale da 340 milioni di euro di cui 170 sono già in terra per cosa? per i famosi spazzini oggi li abbiamo sentiti nominare 200 volte abbiamo fatto il concorso e arriveranno la riorganizzazione e l'acquisto dei nuovi camion nessuno lo sa AMA aveva camion vecchi di 20 anni che stavano fermi nei depositi oggi abbiamo i camion che ricominciano a pulire le strade che ricominciano a pulire le foglie che ricominciano a caricare i cassonetti e continueranno ad arrivare abbiamo acquistato 41 mila cassonetti e AMA li sta posizionando all'interno della città stiamo realizzando 17 nuove isole ecologiche affinché la famosa AMA di municipio di cui ho sentito parlare si possa realizzare ma soprattutto AMA ha progetti reali concreti e finanziati per costruire i sei impianti che le servono per diventare autonoma e poter finalmente pulire la città nessuno lo ricorda ma a dicembre del 2018 è stato dato alle fiamme l'impianto di salario abbiamo perso all'improvviso la capacità di trattare un quarto dei rifiuti di Roma allora il processo di riorganizzazione di AMA è in corso perché ci ho messo tanto perché ho passato gli ultimi quattro anni del mandato a sanare 250 milioni di buchi di bilancio fatti dalle gestioni precedenti non è stato facile lo abbiamo fatto ma il vero problema che nessuno ha detto è che la regione ha solo due discariche quella di Viterbo e quella di Civitavecchia che a breve chiuderà vi faccio un esempio tanto per capire di che parliamo la Lombardia ha 30 impianti tra discariche e termovalorizzatori in Lombardia non hanno problemi di smaltimento dei rifiuti perché tutti i comuni sanno dove portarlo nel Lazio Roma i comuni i comuni di Latina i comuni di Ardea Ponsa non sanno dove portare l'immondizia perché non ci sono discariche non ci sono impianti è una competenza per legge che appartiene alla regione io sistemo Ama e l'ho fatto la regione deve fare la sua parte grazie purtroppo non solo rifiuti anche le strade a Roma sono un'emergenza lo dico da motorinista ma penso che non capiti solo a chi porta i motorini qual è il vostro piano per le strade e molto concretamente quanti fondi pensate di destinare alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria sì inizio scusate siccome sono sempre il primo faccio una precisazione termovalorizzatori di San Vittore non è il raddoppio stanno mettendo una quarta linea che può servire solo di backup alle altre tre quando sono in manutenzione e al piano della regione non prevede una stensione del termovalorizzatore così ci diciamo le cose come sono secondo parlando di strade le strade hanno due problemi prima un investimento medio che è circa la metà di Milano quindi va raddoppiato in particolare sulla straordinaria spendiamo poco più di 50 milioni medi vanno portati a 100 milioni però c'è un altro problema il problema è che la viabilità è per l'85% delegata ai municipi che non hanno la forza di fare gli appalti non solo ma spesso mettono insieme il controllo e l'appalto e quindi è diciamo l'inizio del disastro quello che noi prevediamo è di fare una centrale unica che deve stare al comune per riordinare questi appalti e invece il controllo rimanere ai municipi perché se no si fa di nuovo la sceneggiata che abbiamo visto in questi anni in cui uno dice metto a posto le strade ma poi sul 15% delle strade c'è un altro problema sulle strade e siamo andati molto in profondità perché vengono riscassate continuamente per fare i sottoservizi teoricamente una volta all'anno si dovrebbe pianificare quali strade fare e contemporaneamente chi deve fare tutti i provider di fibra eccetera chi deve fare il lavoro dovrebbe dire io faccio il lavoro però c'è una procedura d'urgenza e questa procedura d'urgenza non è controllata dal comune quindi quello che succede è che si manda una pecca e si dice c'è una procedura d'urgenza e si scassa e questo dà luogo a quello che noi vediamo tutti i giorni sulle strade cioè strade teoricamente rimesse a posto e poi riscassate dico teoricamente perché molto spesso si fa un piccolo manto che poi ricrolla perché sotto non è stato fatto alla base però il punto centrale qual è? tu devi ricentralizzare la parte di appalti e spendendo più soldi ma soprattutto facendo contratti più lunghi con società più grandi perché altrimenti ti sfuggono e non riesci a gestirle e poi l'unica cosa che puoi fare è dire non è responsabilità mia è responsabilità dei municipi che però non c'hanno i soldi Gualtier sì allora noi spendiamo poco e male sulla manutenzione spendiamo meno di 50 milioni su quella ordinaria che poi è fatta anche male come si vede anche in questi cantieri elettorali perché si fa il tappetino invece di fare tutto il manto quindi bisogna portare 80 milioni la ordinaria ma soprattutto bisogna portare da 69 a 120 quella straordinaria perché senza se non si fanno gli interventi straordinari su tutto il manto stradale noi avremo sempre questo meccanismo delle buche tappate e che si rigenero io non si può spostare la competenza della viabilità secondaria a Roma capitale questo è sbagliato bisogna potenziare i municipi di personale per gestire la secondaria la primaria è Roma altro è organizzare meglio organizzare meglio la centrale che fa gli appalti con accordi quadro che rendano più prevedibile diciamo così legare per la manutenzione questo quindi è il quadro di risorse e di metodo c'è il tema dei sottoservizi che è estremamente importante perché oggi non c'è coordinamento quindi si tappa la buca poi arriva la CEA lì dal gas rifà un'altra buca eccetera eccetera quindi serve un meccanismo di coordinamento di regolazione e poi noi vogliamo arrivare al sistema dei sottoservizi cosiddetti intelligenti che possono evitare ogni volta di fare di fare buca è un piano abbastanza ambizioso naturalmente bisogna essere quindi seri e rigorosi però anche avere un po' di principio di realtà perché io come dire se sento parlare della regione che deve realizzare gli impianti di rifiuti quando è noto la regione deve autorizzare e in questi anni AMA non ha fatto richieste per gli impianti di rifiuti poi il dibattito diciamo perde un po' i contorni della realtà ed entra nella realtà virtuale grazie Michetti innanzitutto c'è bisogno di una verifica puntuale dello stato dell'arte bisogna capire qual è il fabbisogno conoscere tutte le procedure in corso perché c'è una fase di incubazione che è quella dell'affidamento una fase diciamo amministrativa e bisogna capire a che punto sono queste procedure dopodiché è chiaro che gli investimenti vanno fatti e investimenti soprattutto nella prima fase bisogna capire quale sia la necessità di investimenti sulla manutenzione straordinaria perché è quella che scende a 50 cm e poi è chiaro che questa manutenzione deve essere una manutenzione che è ciclica per cui quando si assegna la manutenzione ordinaria all'azienda si assegna anche la manutenzione straordinaria perché se c'è ciclicità significa che c'è pianificazione e quindi non c'è emergenza Roma deve tornare ad una normalità tecnico-amministrativa e questa è una gestione contrattuale dove la fase di incubazione viene osservata e può essere osservata ma questo dipende dal criterio di sussidiarietà perché tu puoi gestire la cosa a livello centrale se hai le risorse per farlo se sono qualificate se sono in grado di poterla gestire puoi gestirla a livello periferico se hai le risorse per poterlo fare per cui è chiaro che va fatta prima un'attività istruttoria va pianificato va fatta una programmazione in termini di priorità e poi scendono tutti gli aspetti progettuali che riguardano il dettaglio e poi va curata la fase esecutiva la fase esecutiva ha bisogno di una buona direzione lavori e poi all'esito dei lavori è corretto che ci sia un'attività di collaudo seria un censimento di tutte le opere realizzate sui sottoservizi un'opera di razionalizzazione perché non si torni sempre e ogni volta a intervenire sul manco stradale grazie sindaca due piccolissime precisazioni Michetti se scendi di 50 cm vai in miniera la manutenzione straordinaria è un po' di poco inferiore ma l'abbiamo fatta ancora in regione noi abbiamo chiesto l'autorizzazione per l'apertura di due impianti di compostaggio la regione ci ha messo 24 mesi a dare l'autorizzazione comunque la regione deve per legge occuparsi di creare la rete adeguata di impianti di smaltimento che non sono gli impianti di compostaggio sulle strade noi abbiamo rifatto oltre 800 km di strade di grande viabilità in questi 5 anni e abbiamo dato ai municipi che quando io mi sono insediata avevano un margine di spesa diciamo tra i 2 e i 4 milioni ai municipi li abbiamo finanziati in virtù del principio del decentramento che tutti i candidati sostengono fortemente abbiamo dato tra i 20 30 e 40 milioni di euro quindi i municipi li abbiamo dotati di spesa di capacità di spesa e li abbiamo dotati di personale perché ho assunto circa 6.000 persone con prioritaria assegnazione ai municipi che cosa succede? succede che molti municipi le strade le hanno rifatte le hanno rifatte anche bene altri municipi e non ho timore a dirlo primo e secondo che sono municipi a guida PD hanno deciso di non utilizzare quei fondi per rifare le strade e ci hanno fatto altro cosa non è dato sapere perché non riferiscono in virtù del decentramento non riferiscono il tema qual è? il tema è far spendere meglio ai municipi non sbandierare il principio del principio del decentramento come la panacea di tutti i mali ma quello che farò io è la stessa cosa che ho fatto per eliminare le bancarelle commissario i municipi inadempienti e con un provvedimento autoritativo mi sostituisco allo stesso tempo informo i miei colleghi che abbiamo approvato il regolamento scavi proprio per coordinare gli interventi delle ditte di sottoservizi con la programmazione di Roma Capitale il problema è che per legge è garantito a queste ditte di intervenire in caso di urgenza una fuga di gas e non bisogna riprogrammare tutto si va e si gestisce quindi servono circa 250 milioni di euro l'anno noi ne abbiamo spesi 450 se Roma finalmente avrà i poteri da capitale e i fondi da capitale potremo moltiplicare e velocizzare gli interventi grazie in realtà andiamo un po' in scia diciamo rispetto alle ultime due domande che abbiamo fatto perché tutto questo si potrebbe condensare in la seguente domanda serve una vera e propria super task force che gestisca le emergenze gli interventi straordinari di Roma e se sì con quali quanti fondi e in quanto tempo pensereste di realizzare si serve per due ordini di ragione intanto noi abbiamo il giubileo e abbiamo bisogno rapidamente dell'istituzione di un commissario per il giubileo con poteri straordinari e in questo ambito vanno messe tutte le opere che si possono realizzare nei prossimi due o tre anni che non sono poche per esempio anche l'estensione del termovalorizzatore i cestini gli spazzini la pulizia straordinaria cioè noi tutti questi interventi li dobbiamo fare con una struttura di natura straordinaria se no non ci arriviamo sono in ritardo eccetera ora ci si lamenta spesso correttamente dei poteri di Roma Roma non ha sufficienti poteri a parte che molti li potrebbe delegare la regione Lazio ma noi li delega o meglio gli offre di delegarli senza però i capitoli di bilancio relativi ma al di là di questo quello che è fondamentale è che noi abbiamo questa struttura commissariale con qualcuno che è capace di gestire in emergenza il ripristino di decoro della città e l'accoglienza per i pellegrì durante il giubileo quindi questo io penso che sia la priorità numero uno noi nei prossimi giorni manderemo uno schema di decreto a Draghi e una rivisitazione di quelle che sono le opere previste che si possono fare in questo periodo perché ci ha bisogno di un'altra task force chiamiamola una struttura di missione ed è per la gestione dei progetti che scaturiranno dalle missioni del PNRR quello che succede oggi è che è stato mandato una lista di progetti completamente scombiccherata che non rispettava il tempo di spesa del PNRR quindi Roma a parte i 500 milioni diciamo di dedicato e 300 per il turismo e 300 per Cinecittà c'ha po' anzi c'ha niente di dedicato però ci sono le missioni che devono essere calate per far quello bisogna fare progetti seri certo se uno poi non spende come succede oggi i soldi stanziati per i tram per le metropolitane persino per le funivie che non hanno un progetto definitivo beh a quel punto è chiaro che tutto quanto il discorso sui poteri straordinari viene a cadere perché neanche quelli ordinari si sanno usare dunque commissario per il giubileo e task force di missione per lo sfruttamento dei fondi del PNRR Roberto Gualtieri sì commissario giubileo è importante lo fa il governo naturalmente noi creeremo una struttura a due livelli una struttura tecnica per gestire il PNRR e il giubileo e una cabina di regia per coordinare tutti gli interventi su queste due opportunità e responsabilità straordinarie di Roma ci sono molte risorse per Roma il problema è riuscire a spenderle e sbrigarsi perché purtroppo Roma è molto indietro sui progetti rispetto ad altre città e rischia davvero tanto quindi questo è il primo dato parentesi quello che è stato detto dalla sindaca è totalmente inventato rispetto al primo e il secondo municipio e insomma inviterei a chiedere ai cittadini nella città se vedono tutta questa manutenzione che è stata realizzata per le strade ma chiusa questa parentesi c'è un punto importante servono le strutture e in generale oggi Roma ha le strutture amministrative a canne d'organo quindi ritorneremo a un metodo che era stato applicato intelligentemente nel passato anche da Rutelli e Veltroni era delle strutture centrali di coordinamento perché bisogna passare dal primato della procedura al primato dell'obiettivo e quindi tutta la macchina deve lavorare rispetto all'obiettivo ma poi c'è un altro aspetto molto importante che Roma non si governa solo con le strutture di governo di Roma Capitale Roma si governa anche portando gli altri livelli istituzionali a occuparsi Roma un sindaco di Roma deve parlare regolamente col governo deve collaborare con la regione anche qui ho ascoltato dire abbiamo portato Roma fuori dalla pandemia il sindaco di Roma è stato totalmente assente sul covid non ha mai neanche telefonato all'assessore D'Amato al presidente Zingaretti per dire cosa serve cosa posso fare sul covid il sindaco di Roma deve fare l'opposto il sindaco di Roma deve aiutare tutti i livelli istituzionali a occuparsi di Roma come avviene a Parigi come avviene a Londra al di là dei poteri con la capacità politica e con l'autorevolezza Michetti prego allora i 40-50 cm di scavo nella manutenzione straordinaria io l'ho rilevato nei capitolati del comune di Roma per quanto riguarda viceversa invece l'argomento della task force noi dobbiamo tener conto che l'ente locale non è un'azienda l'ente locale ha una sua liturgia ha un suo palinsesto normativo per cui noi abbiamo persone che diverso peraltro dall'amministrazione centrale del paese noi abbiamo bisogno di persone che conoscano la macchina quel singolo segmento della macchina si tratti di edilizia si tratti di urbanistica si tratti di personale si tratti di ambiente si tratti di servizi sociali abbiamo bisogno di risorse qualificate che abbiano esperienza competenza qualità e questa selezione della classe dirigente è la cosa più difficile che c'è noi dobbiamo tornare ad una normalità l'emergenza è soltanto una fase noi dovremo tornare a pianificare la pianificazione è la cosa più importante perché dà alla città un ordine quell'ordine che manca per cui l'esecutivo la giunta dovrà essere formata da persone di altissimo livello persone che conoscano la propria delega la delega che gli verrà assegnata che abbiano idee chiare che sappiano fare gioco di squadra e che agiscano in maniera armonica per quanto riguarda poi le unità organizzative al vertice delle unità organizzative ci vanno persone che conoscano quell'ambito che sappiano organizzare all'interno un numero di risorse adeguate ad affrontare i singoli segmenti procedurali che siano quei segmenti procedurali dotati delle risorse necessarie che ci sia implementazione digitale per quanto riguarda le fasi vincolate per quanto riguarda le fasi discrezionali c'è bisogno anche di ausilio nelle cosiddette procedure complesse Sindaga sentito tanta teoria comunque io direi che il principale driver di sviluppo di Roma è riconoscere i poteri a Roma i poteri di capitale esattamente come tutte le altre capitali che significa competenze ampliate competenze svincolate costantemente dal controllo della regione un rapporto diretto con lo Stato e risorse adeguate e questo è un tema accanto a questo che Roma oggi ancora non ha abbiamo persone che sono state in Parlamento e non hanno mosso un dito in realtà in questa direzione per fortuna oggi abbiamo tre progetti di legge incardinati in Parlamento che mi auguro vengano approvati e finalmente consentano a Roma di mettere le ali ai piedi da questo punto di vista accanto a questo è stata creata una struttura di missione presso la presidenza del Consiglio dei Ministri per il giubileo del 2025 e che cosa ho detto io tra i primi obiettivi la primissima domanda cosa farà appena eletta io apro un tavolo operativo tra Roma capitale e le forze produttive della città per lavorare sui risultati raggiunti del PNRR del giubileo e di Expo 2030 e per pianificare il futuro questo tavolo diventa la cabina di regia in parte istituzionale in parte operativa con ovviamente parliamo di imprese parliamo di operatori economici per dialogare con le cabine di regia governative e valutare step per step cosa serve per Roma ancora io sento parlare di pianificazione io ho pianificato però dovete capire una cosa che quando si pianifica si pianifica a breve medio e lungo termine i risultati non avvengono in un secondo quando si fa una gara tutti parlate di gare le gare hanno dei tempi lunghissimi tra il progetto di fattibilità il progetto preliminare il progetto definitivo il progetto esecutivo e gara lavori e già abbiamo cinque fasi io ho chiesto di semplificare il codice degli appalti dal 2016 a oggi ho avuto quattro modifiche più due decreti semplificazione i comuni sono esausti non sanno più e non solo il mio non sanno più quale norma applicare semplificate fateci mettere i soldi in terra questo è quello che vi si chiede perché le risorse ci sono le pianificazioni pure abbiamo bisogno di norme semplici grazie si è mangiata un po' di secondi nelle sue risposte prossima domanda è l'ultima peccato che ci avevate lasciato zero progetti siamo arrivati alla fine quindi adesso avrete modo ognuno come dire di andare a tema libero e di spiegare ai romani perché dovrebbero votare per voi ma vi faccio anche una domanda più specifica quando pensate di rendere nota la vostra giunta in caso di elezione o se magari volete anticiparci qualche nome se già avete le idee chiare Calenda perché votare per lei intanto perché credo di aver fatto un lavoro duro e lungo innanzitutto rispettando la città e andando a guardare quartiere per quartiere non banalizzando parlando di periferie che sono una o diversa dall'altra con una loro storia con una loro identità e quindi facendo un lavoro di conoscenza di profondità incontrando circa 600 associazioni che tengono in piedi Roma perché Roma non è nelle condizioni che descrive la sindaca e questo lo sanno tutti benissimo le associazioni l'hanno tenuta in piedi in secondo luogo un programma profondo sono quasi 2000 pagine e sono dettagliate quanti soldi ci vogliono quando è ritorno quando si fanno le opere ma soprattutto l'indipendenza perché Roma ha questa maledizione per cui non si può far funzionare Ama i vigili urbani Atac perché questa maledizione questa maledizione deriva dal fatto che quando si vanno a chiedere il voto si prendono tante liste con tutto il contrario di tutto dentro si raccattano voti ovunque si promette che non si toccarà niente che lo Stato scor rimarrà che non c'è bisogno del termovalorizzatore che gli spazzini ci sono già e sono tutte palle e lo sappiamo perfettamente sono palle perché poi quando si trovano lì tutti questi patti che sono stati fatti prima pagano il conto e il conto è non riuscire a fare assolutamente nulla ecco io ho sempre pensato che più che solo diventare sindaco l'importante a Roma è riuscire a essere nelle condizioni politiche di fare il sindaco e arrivarci preparato per non dover fare le scene che abbiamo visto in cui uno dice dopo tre anni adesso faccio una cosa per il futuro di Roma che ancora non ho capito come si governa ecco questo è quello che io penso sarà fondamentale in più l'indipendenza la giunta verrà costituita con criteri di assoluta indipendenza e anche di totale competenza per materia non devo dare niente a nessuno non devo ripagare il capolista di lista o altre cose del genere perché siamo noi civici indipendenti e spero preparati la rende nota prima del voto? no la renderò nota prima del ballottaggio ma io sono una persona che studia molto i dossier e lo farò con grande puntigliosità come ho iniziato a fare da quando mi sono candidato e abbiamo per questo scritto il programma più ricco più ampio più articolato e sono una persona che ci metterà tutta la passione tutto l'impegno per portare a casa i risultati quello che ho fatto da ministro ho fatto meno annunci e più fatti portato a casa il PNRR portato a casa il cuneo fiscale l'assegno unico il 110% il decreto affrancazioni che è stato ricordato da amichetti che sono orgoglioso di aver scritto durante il covid e ora c'è la delibera trasformazione come giustamente ha detto Enrico da fare perché tante romane e romani aspettano e ci metterò quindi questa passione questa determinazione tutta la mia esperienza ma anche tutta l'umiltà di chissà che Roma si governa non con un uomo solo al comando ma coinvolgendo includendo le forze migliori della città è quello che abbiamo fatto allargando la nostra coalizione a forze civiche a personalità di grandissima qualità e spessore è quello che farò nella formazione della giunta dove come ho fatto da ministro quando ho fatto nomine ho scelto collaboratori sceglierò sempre i migliori e i più bravi portando anche esperienze e professionalità che ho conosciuto nella mia esperienza di governo al servizio della città e dotando Roma di una squadra all'altezza di una grande capitale quando lo renderemo noto lo renderemo noto gradualmente i nomi soprattutto dal ballottaggio però il lavoro di formazione di questa squadra e come mi disse Francesco Rutelli deve avere almeno 100 persone per governare Roma è un lavoro che abbiamo già iniziato che stiamo facendo e come avete visto abbiamo coinvolto tante personalità di qualità nella redazione del programma e della preparazione della nostra squadra che sarà una squadra all'altezza di Roma grazie Michetti ma io nella mia vita ho fatto soprattutto la persona che entra nei comuni la mattina e esce la sera per affiancare gli amministratori e i funzionari pubblici nelle cosiddette procedure complesse e più vado avanti e più mi rendo conto che c'è bisogno di umiltà perché si può imparare dalla persona che ha l'incarico meno più basso magari che e quindi sotto questo profilo io rispetterò ogni principio della Costituzione rispetterò ogni lavoratore e come sto facendo in questa campagna elettorale credo che sia importante una pacificazione una serenità perché Roma ha bisogno anche di serenità ecco su questo non farò sconti a nessuno chiunque vorrà collaborare dovrà collaborare secondo regole di educazione di rispetto di stile perché Roma è una grande bellezza e quindi Roma merita che quando il sindaco l'esecutivo tutti i funzionari i dirigenti il personale tutto si presentano al cospetto del cittadino del mondo delle imprese nell'enclava internazionale tutti possano dire che ci troviamo di fronte a delle persone serie per bene di qualità educate e che hanno voglia di fare che hanno voglia di fare e che si che sappiano fare gioco di squadra e che si sentano orgogliosamente romani e quindi noi stiamo amministrando il più grande patrimonio dell'umanità dobbiamo avere questo coraggio e soprattutto questo senso di responsabilità per cui collaborazione massima con tutti gli enti istituzionali collaborazione massima tra le persone rispetto della Costituzione rispetto di ogni essere umano e soprattutto chi fa il sindaco deve sapere leggere le carte scriversi i suoi atti grazie raggi io mi ricandito e mi ricandito per dare continuità al lavoro che abbiamo svolto in questi primi cinque anni non è stato un lavoro semplice e per certi versi non è stato neanche un lavoro visibile sappiamo però come ci hanno lasciato Roma Roma era la città di mafia capitale io l'ho presa dopo un commissariamento Roma era la città che veniva definita peraltro proprio da una delle persone che ha scelto Michetti Roma ladrona ecco allora oggi a Roma ha i conti in ordine ce lo ha riconosciuto Standard & Poor's classificando finalmente l'outlook di Roma da negativo a stabile questo significa dare fiducia dare fiducia agli investitori stranieri che infatti stanno tornando come lo avete riconosciuto anche voi sul vostro giornale a Roma abbiamo ricominciato a pagare i nostri fornitori quando io sono arrivata si pagava a 60 giorni data fattura fine mese oggi si paga 11 giorni abbiamo ricominciato a pagare i debiti del passato e abbiamo iniziato a fare le gare a Roma non si assegnano più i lavori al telefono chiamando gli amici degli amici o facendo gare finte finalmente l'economia è tornata a girare tanti cantieri sono visibili tanti altri nasceranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni perché abbiamo pianificato io credo questa sia la strategia per portare Roma nel futuro la pianificazione dei trasporti prevede una totale rivoluzione del trasporto pubblico con la creazione e la realizzazione di 12 linee tram l'ampliamento di tutte le metropolitane il prolungamento della metro C a Farnesina e poi a Saxarubra della metro A a Prima Valle e poi a Montemario della metro B finalmente a Casal Monastero e una diramazione sul raccordo la realizzazione della metro D e poi piste ciclabili tutto questo è stato già programmato programmato e in parte finanziato non è stato un lavoro semplice ma è stato il lavoro che serviva per Roma avrei potuto dare una mano di bianco ho preferito fare le cose per bene e io ritengo che oggi alla vigilia del PNRR del Giubileo e di Expo 2030 abbiamo la necessità di agganciare con la stessa trasparenza determinazione e onestà questi appuntamenti per far rinascere la nostra città bene sono passati da poco i 90 minuti di questo incontro quasi un derby anticipato credo che tutti i telespettatori che ci hanno seguito abbiano avuto modo di farsi un'idea delle vostre idee della vostra progettualità crediamo di aver dato un contributo al voto da parte nostra continuerà a esserci un auspicio cioè che gran parte delle cose che sono state dette qui vengono poi davvero attuate faremo il nostro mestiere di giornalisti quindi ci sarà un controllo fattuale su quello che succederà nei prossimi cinque anni vi ringrazio soprattutto per il tono con il quale avete mantenuto la conversazione che sicuramente è servito per aumentare la comprensibilità delle vostre argomentazioni grazie a tutti grazie grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille